E rieccoci in diretta sulle frequenze di RBA, a in poche parole quest'oggi stiamo parlando di un tema estremamente importante che è quello delle molestie, mi è venuta a far compagnia e ospite in studio, seppur virtuale, Roberta Cavaglià, qui presente che vedete alle mie spalle che è coautrice di un'inchiesta, come dicevo prima, che ha l'obiettivo di indagare il problema delle moleste sessuali, degli abusi di potere nel mondo del giornalismo italiano, partendo da, e poi mi spiegherai anche meglio tu, delle testimonianze che sono nate durante dei master di giornalismo un po' sparsi in tutta Italia, è così? Giusto? Sì, ciao a tutte e a tutti e grazie mille per l'invito, sì io sono una delle coautrici insieme a altre due giornaliste freelance Stefania Prandi e Francesca Candioli di un'inchiesta che è uscita la settimana scorsa, il 16 ottobre su IRPI Media, è un'inchiesta lunga otto mesi a cui abbiamo lavorato da febbraio del 2024 e durante questo periodo abbiamo raccolto appunto, come dicevi, testimonianze di molestie studentesse e studenti e anche da quattro fonti interne alle scuole di giornalismo riconosciute dall'ordine e che sono attive, che in Italia in questo momento sono dieci e anche l'insieme delle testimonianze che abbiamo raccolto riguardano gli ultimi dieci anni di corsi, quindi gli ultimi sostanzialmente cinque bienni Ecco, e cos'è il risultato da queste testimonianze di tutte queste persone che hanno denunciato quindi moleste, sessuali, abusi di potere e soprattutto come si è mossa un po' tutta la macchina? Allora, rispetto a questo campione che non vuole essere un campione scientifico accademico ma che comunque ci restituisce secondo noi diciamo la panoramica di una situazione, rispetto a queste 239 persone che abbiamo appunto intervistato la metà ci ha riferito di aver assistito o saputo a episodi di moleste sessuali verbali, tentate violenze sessuali, atti persecutori, stalking, ricatti e discriminazioni di genere e un terzo delle alunne nello specifico ha descritto nel dettaglio di aver vissuto questo tipo di abusi Noi abbiamo raccolto queste testimonianze non per puntare il dito contro qualcuno in particolare ma per accendere un riflettore su questo sistema in cui sono coinvolte molte persone nel caso delle scuole di giornalismo perché ci sono attori differenti, ci sono le scuole di giornalismo che sono inserite all'interno di un'università e i giornalisti di per sé come ordine sono strutturati attraverso ordini regionali che fanno capo a un ordine nazionale quindi dopo aver raccolto queste testimonianze noi abbiamo voluto avere un confronto con i direttori e le direttrici delle scuole, con i presidenti degli ordini regionali, con il presidente dell'ordine dei giornalisti e anche con i rettori e le rettrici delle università coinvolte Sono curiosa di sapere che risposte hanno dato, se ne hanno date? Allora tutti ci hanno risposto, in realtà sono stati molto aperti e disponibili al confronto devo dire che li abbiamo sempre visti abbastanza sorpresi e anche sgomenti nel senso di sicuro erano sicuri di lavorare con persone di cui potevano in un certo senso fidarsi c'è stato però da parte di tutti l'impegno a migliorare le cose, monitorare soprattutto la situazione e a lavorare ulteriormente sulla prevenzione Alcune scuole ci hanno confermato di aver ricevuto segnalazioni di episodi di molesti e sessismo negli ultimi dieci anni e di aver preso provvedimenti allontanando le persone coinvolte Altre, in assenza di segnalazioni da parte delle studentesse, hanno preso di questi episodi da noi attraverso l'inchiesta e ci hanno assicurato appunto di voler verificare in maniera approfondita la questione Per noi questo è un punto di partenza, nel senso per noi che abbiamo raccolto queste testimonianze e vogliamo in un certo senso, speriamo che lo sia per le scuole in modo che possano cercare nuove forme di intervento e che allo stesso tempo mantengano l'attenzione diciamo fissa su questo fenomeno Certo, e non mi stupisce quello che hai detto che si siano stupiti invece agli apici quando avete fatto il report di queste testimonianze perché spesso, come dicevo io prima, si tende a normalizzare questi atti come se fossero qualcosa di non poi così grave di cui non ci si accorge, che magari si sentono ma poi sono delle cose talmente tanto frequenti nella nostra vita che perdono la loro gravità e parleremo un po' più approfonditamente di quelli che sono effettivamente le molestie anche, se vuoi, chiaramente riportate perché sono importanti per andare a riconoscerle nel momento in cui noi stessi siamo oggetti di questi tipi di molestie oppure ne facciamo esperienza da terzi, ecco di notarle, comprenderle e fare qualcosa, riportarle eventualmente ma adesso andiamo a sentire una canzone Francesca Michelin e Imaneskin con Stato di Natura a tra poco e rieccoci in diretta sulle frequenze di RBA scusatemi, vedete un po' manipolare perché è la mia prima volta, la mia prima intervista online ciao, rieccoci con Roberta Cavaglià stavamo parlando di questa inchiesta riguardante il problema delle moleste, degli abusi di potere soprattutto perché, come spiegavo prima, quando la molestia si attua in ambiente di lavoro in ambiente scolastico, di istruzione là si sente davvero qual è l'abuso di potere e c'è un sito che raccoglie le tantissime, quasi 300 testimonianze quasi, giusto? Roberta? siamo sulle 240 ecco, perfetto che vanno a raccontare anche in brevissimo quello che queste donne hanno subito in ambienti che dovrebbero essere tutelanti ma di fatto poi non lo sono a me ne ho lette qualcuna e mi han dato la nausea però adesso passo la palla a te per raccontarci un po' meglio che cosa succede in questi tipi di ambienti? Sì, noi siamo partite per fare questa inchiesta che si concentra solo sulle molestie nelle scuole di giornalismo da una serie di segnalazioni che abbiamo avuto parlando in maniera informale con studenti e redattrici a livello di contesto ricerche internazionali ci dicono che le redazioni di giornali, radio e televisioni sono tra i luoghi di lavoro con il più alto tasso di molestie sessuali e sessismo cito per esempio un sondaggio dell'International Women's Media Foundation che dice che quasi due giornaliste su tre in tutto il mondo hanno dichiarato di aver subito molestie durante la loro carriera e per noi quindi seguire il filo di queste prime testimonianze che ci sono arrivate per capire che in realtà questo tipo di abusi inizia in un contesto formativo è particolarmente grave perché all'interno appunto di un contesto di formazione lo squilibrio di potere tra un'alunna e un formatore è particolarmente diciamo accentuato e quindi ci sembrava proprio più per il momento interessante da indagare sapendo che poi le stesse persone in alcuni casi alcuni formatori sono anche giornalisti quindi sono le stesse persone che troviamo a insegnare nelle scuole e poi a lavorare nelle redazioni quindi è un sistema è un po' anche una filiera che parte dalle scuole Personalmente è proprio questo uno dei dettagli che lo rende particolarmente agghiacciante questa cosa che facciano parte effettivamente del mondo giornalistico queste persone Sì, questo è ovviamente particolarmente grave perché entra poi tutta la struttura dei regolamenti dell'ordine ovviamente ci sono varie normative dell'ordine dei giornalisti che riguardano appunto il comportamento che dovrebbe tenere un membro del suo ordine quindi è grave è problematico diciamo su contesti diversi a livello anche professionale appunto alla luce di questo doppio mantello doppio anche cappello da formatore e giornalista Ecco, voi avete anche stilato con IRPI Media e che è appunto un media indipendente di giornalismo di inchiesta avete stilato anche un vademecum per farsi di riconoscere la violenza nei luoghi di formazione ma può essere anche applicata nei luoghi di lavoro credo e anche di conseguenza che cosa fare dopo aver riconosciuto questi tipi di moleste come ho detto o in prima persona oppure da terzi quando si assiste a questi tipi di violenza che cosa fare perché uno dei problemi principali è anche non solo riconoscere che è stata una molestia ma anche non agire per paura di ripercussioni e anche per la paura che tanto non succederà niente a queste persone tanto le forze dell'ordine non prenderanno mai per avere quello che rimandiamo e poi anche legalmente non succederà nulla e passeranno impunite queste persone sì ci sono vari livelli nel senso la domanda sul perché queste segnalazioni non sono arrivate alle scuole che è una prima domanda che poi arriva perché le persone che sono state molestate non denunciano hanno risposte simili io posso solo ipotizzarle perché penso che ogni persona che ha vissuto violenza abbia dei suoi motivi che riguardano la sua storia personale sul perché ha scelto di non denunciare sono tutti motivi validissimi quindi quello che faccio sono di solito ipotesi c'è soprattutto come dicevi il timore di ritorsioni che avvengono all'interno del contesto scolastico ma che appunto per la doppia natura di cui parlavamo prima si possono poi ripercuotere sulla carriera giornalistica una carriera su cui le persone che fanno le scuole di giornalismo investono tantissimo in termini di tempo perché le scuole durano due anni molto spesso sono a tempo completo quindi impiegano tutta la giornata non è possibile fare un altro lavoro o sostenersi e che hanno delle rette che sono abbastanza onerose nel senso vanno dagli 8.000 ai 21.000 euro quindi c'è un investimento e c'è la paura che questo investimento appunto in un certo senso un po' terribile non venga ripagato si ha timore di questo tipo di ritorsioni il va de mecum è stato stirato appunto da questa avvocata in realtà è consiglio di leggerlo si chiama Virginia Dascanio lei fa anche parte della rete non una di meno perfetto allora adesso dobbiamo passare la linea all'infotraffico a muoversi in Piemonte ma prima a proposito di violenze verbali sentiamo insieme una canzone di Carmen Consoli che si chiama A cercasi che parla delle tipiche battutine che si fanno sul lavoro ma può anche essere valido per altri ambienti come quello per esempio dell'istruzione rimaniamo in collegamento con Roberta Cavaglia per continuare a parlare di questa inchiesta a tra poco rieccoci in diretta sulle frequenze di RBA in poche parole quest'oggi stiamo parlando di un tema estremamente importante di cui comunque torneremo a parlare anche in futuro perché c'è bisogno di parlarne parliamo di molestie in questo caso in particolar modo con Roberta Cavaglia che ospite nello schermo dietro di me online stiamo parlando di questa inchiesta che ha l'obiettivo di fare luce su quelle che sono sono state e sono ancora adesso purtroppo le molesse in un ambito che potremmo considerare un po' strano a vederlo dall'esterno che è quello del mondo del giornalismo soprattutto dei master di giornalismo dicevamo ci sono più di 240 testimonianze di donne che hanno riportato come hanno subito in vario modo delle molestie da parte soprattutto dei loro insegnanti oltretutto mettendo anche a rischio la loro sicurezza prima di tutto ma anche la libertà di stampa sì in realtà noi abbiamo raccolto 240 testimonianze e un terzo di queste riguarda proprio persone che hanno vissuto molestie in prima persona e di certo è un tema che riguarda la libertà di stampa e a proposito di stampa la domanda che ci è stata fatta più spesso forse nelle interviste che stiamo facendo negli ultimi giorni per appunto parlare di questa inchiesta è perché nessuna di queste persone che ha vissuto molestie ha denunciato e mi sembra una domanda legittima assolutamente mi sembra che ci sia anche un'altra domanda che sia legittima da farsi ed è perché invece di dare la responsabilità alle giovani di denunciare non ci preoccupiamo di controllare e intercettare eventuali abusatori all'interno delle scuole e degli stage perché piccola parentesi queste scuole prevedono dei periodi di stage all'interno appunto delle redazioni giornalistiche secondo me è importante chiedersi cosa stiamo facendo per impedire che le molesti avvengano cosa possiamo fare di più cosa possiamo fare meglio e mi metto nei panni di una persona che magari fa parte di un'università di una scuola di un ordine dei giornalisti e che potrebbe chiedersi cosa posso fare io se questa è una causa che mi interessa davvero per migliorare le cose a livello individuale e collettivo in che modo posso io supportare le studentesse o al contrario segnalare a un collega un comportamento che mi sembra inappropriato mi sembra che ci sia molta responsabilità posta sulle persone che vivono molestie che già hanno vissuto molestie quindi si trovano magari a vivere con le conseguenze di questi atti che a livello psicologico possono essere davvero importanti e perché non ci preoccupiamo della responsabilità che sia individuale che collettiva all'interno degli enti di formazione e all'interno dell'ordine dei giornalisti mi sembra che questo cambio di prospettiva sia importante e spero che questa inchiesta possa aiutarci appunto a ribaltare questa domanda e a trovare nuove risposte sì uno dei modi sicuramente per far luce su quello che il mondo delle molestie lo ripeterò fino alla fine e smettere di normalizzare queste molestie anche se non si fa parte del mondo del giornalismo io vi invito ad andare sul sito espulse.com per leggere anche solo alcune di queste testimonianze delle alune di questi corsi di giornalismo perché fanno luce chiaramente su quelli che sono degli abusi abusi di potere degli abusi sessuali che stranamente raramente hanno poi una caratterizzazione soltanto lavorativa ci sono sempre delle implicite delle caratteristiche sessuali anche solo di flirt laddove non sono graditi io vedo una costante di queste caratteristiche che che è pesante anche da accettare e io credo che questi tipi di testimonianze vadano lette soprattutto dagli uomini sì c'è una cosa che noto spesso è un grandissimo interesse verso la vita sentimentale per esempio delle alunne come si volesse un pochettino sondare il territorio secondo me la normalizzazione è un problema è un problema che viene dall'esterno viene quando per esempio una persona molestata ne parla con delle altre che possono essere sue pari quindi altri studenti altre studentesse o quando avviene che con magari un formatore o una formatrice e dall'altra parte mi viene detto è normale e ti fa sentire in un certo senso strana per aver voluto sottolineare questa situazione che invece a te sembra anormale e questo porta a una normalizzazione diciamo interiore per cui se io penso che quello che è successo è normale allora la persona sbagliata sono io e esce fuori il senso di colpa magari sono stata io a provocare tutto questo quando come appunto dicevamo anche prima nel vademecum che ha scritto l'avvocata penalista Virginia D'Ascanio e che è uscita insieme all'inchiesta viene messo bene in chiaro che qui siamo tra adulti e quando c'è un abuso c'è una parte che lo perpetra e una parte che lo subisce e che il senso di colpa è uno dei fattori diciamo che ci impedisce di segnalare e denunciare questo tipo di episodi ecco a proposito di questo adesso andiamo a ascoltare la prossima canzone di Fiorella Mannoia che si chiama appunto Nessuna conseguenza a tra poco rieccoci in diretta sulle frequenze di Radio Bequita Evangelica qua con me Roberta Cavaglia in poche parole per parlare appunto di questa inchiesta che ha coinvolto soprattutto il mondo della istruzione a livello giornalistico quindi i master universitari e le tante testimonianze che sono arrivate di moleste e di abusi da parte di studentesse ma non solo anche di studenti o di persone che avevano assistito a delle situazioni che sono delle molestie tali e quindi state facendo appunto questa inchiesta raccogliendo queste testimonianze potete anche voi partecipare se avete una testimonianza in merito di qualche molestia vissuta o anche espedita su espulse.com c'è anche un coffee perché si può contribuire a questa azione volontaria perché comunque ha un suo costo ha una ha una sua spesa anche in termini di tempo Roberta ci tenevi soprattutto a ricordare che questo è uno safe space quindi un luogo dove le persone possono dire la loro in completo anonimato nel rispetto della privacy e come raccontava anche Fiorella Mannoia nella sua canzone che non ci siano delle conseguenze rispetto a chi parla di questo perché la paura molto spesso del non parlare di queste situazioni è proprio le conseguenze sì esatto noi abbiamo lavorato all'inchiesta attraverso questo questionario che è anonimo chiediamo solamente di lasciare un contatto ovviamente per magari continuare a approfondire la testimonianza ci tengo a sottolineare che anche nel caso in cui ci viene raccontata ci viene condivisa una testimonianza se a un certo punto nel ricontatto successivo si vuole smettere di parlare di questo argomento perché può essere appunto psicologicamente molto intenso noi ovviamente accettiamo questa scelta questa è un'inchiesta basata sulle molestie e quindi anche sul consenso quindi questo per noi è un argomento fondamentale abbiamo raccolto queste testimonianze che sono finite nell'inchiesta che abbiamo pubblicato la settimana scorsa e continueremo a raccoglierne attraverso questo questionario che è aperto a studentesse studenti persone che sono coinvolte nell'ambito delle scuole di giornalismo e a giornalisti e giornalisti che lavorano nelle redazioni grazie mille io ti ringrazio Roberta per il lavoro che state facendo tu e le collaboratrici le coautrici di questa inchiesta vuoi ripetere anche i loro nomi? sì sono Stefania Prandi e Francesca Candioli e all'inchiesta hanno collaborato il collettivo che si chiama Espulse perché ricordiamo questa inchiesta è nell'ambito non soltanto del giornalismo ma anche dei media mi hai detto che ogni tanto ricevete delle richieste per sapere ma lo farete anche in altri ambiti allora questo da una parte è positivo perché le persone vogliono parlare vogliono uscire vogliono dimostrare che si hanno paura ma questo non le fa tacere d'altra parte significa che purtroppo queste cose avvengono diametralmente in qualsiasi ambito sia dell'istruzione che lavorativo quindi tanto lavoro c'è da fare però si parte da qua si parte cominciando a parlarne e un gran lavoro state facendo raccogliendo queste testimonianze grazie mille sì è molto diciamo diffuso e invito a conoscere altri collettivi che si occupano di fare luce sul fenomeno delle molestie in altri ambiti so che ce ne sono nel mondo del teatro per esempio della pubblicità perfetto ti ringrazio tantissimo Roberta Cavaglia vi invito ad andare sul sito espulse.com ma anche a cercare sul sito della IRPI tutte le varie inchieste giornalistiche anche di questo tipo anche per trovare il Vademecum che avete anche stilato e se volete partecipare potete partecipare mandare la vostra testimonianza in questo ambito grazie mille ci risentiremo magari in futuro per sapere come evolve la situazione volentieri grazie mille per l'invito e buon proseguimento di serata grazie a te andiamo a sentire Margherita Vicario con Giubbottino a tra poco grazie a te